Pazzetto dello sport di Cuneo, siamo in compagnia di Luca Filippi in vista della partita che Cuneo sosterra domenica alle 19 contro Reggio Emilia. Luca io faccio un passo indietro, torno alla partita contro Bergamo che avete perso 3-0 a bocce ferme, insomma come analizzi questa partita che naturalmente è segnata da un primo set che stavate per portare a casa, non è andata così e poi finita 3-0. Spiace sicuramente per come è iniziata la partita, il primo set eravamo avanti di 3-4 punti quindi potevamo benissimo portare la casa, abbiamo sbagliato noi, ne siamo consapevoli e poi da lì la partita è stata tutta in salita, quindi complimenti a Bergamo perché poi è in salita, è cresciuta con la pallavolo e noi abbiamo partito un po' ma dobbiamo archiviare subito questa sconfitta e pensare alla gara di dopodomani, domenica e rifarci subito. Prima di parlare della partita appunto contro Reggio entriamo nel rush finale di questa regular season, secondo te insomma per trovare il miglior piazzamento playoff cosa dovrete mettere sul piatto perché ci sono partite importanti a partire appunto di quelle di domenica? Sì, sono tutte partite fondamentali perché sono tutti punti importanti per il posizionamento in vista dei playoff, dobbiamo cercare di arrivare il più alto possibile e nella miglior forma possibile per affrontare meglio i playoff quindi ogni partita e ogni punto è importantissimo e fondamentale, non interessa chi c'è dall'altra parte del campo ma bisogna vincere e fare punti. Domenica appunto la partita contro Conad e Reggio Emilia che purtroppo la vostra bestia nera di questa stagione, c'è anche purtroppo una recente fine di Coppa Italia che insomma fa ancora male, persa proprio contro Reggio Emilia, che squadra è e che gara ti aspetti perché per voi questo è veramente uno sconto diretto molto molto importante? Sicuramente è importantissimo per la classifica, poi a maggior ragione dopo la sconfitta in fine di Coppa Italia qua in casa nostra ci dà ancora più fastidio, sicuramente non dobbiamo pensare a fine di Coppa Italia, quella è una gara da archiviare, non dobbiamo più pensarci, dobbiamo pensare a un'altra gara, una gara di campionato, sono squadra quadrata, molto forte, giocano molto bene quindi dobbiamo essere bravi noi a sfruttare il fattore campo e mettere in difficoltà fin da subito.